buonasera ragazzi allora alla fine il sondaggio ha decretato vittoriosa la modalità suddetta del caricare video su youtube e lasciarli in privato che bello sono troppo contento di tornare a fare video senza però il peso del montaggio sono davvero contento soprattutto di poter dire ogni cazzata possibile tanto insomma immagino che se guardate questo video sarete interessati più che altro ai fumetti perché dovete sapere che ciò che mi toglie molto più tempo nei video è uno il montaggio e due il rendermi presentabili nei video per fare la prima parte di video invece spero che questo video lo guarderanno solo insomma le persone che sono veramente patite di fumetti e che sono contenti di vedermi gesticolare di non fare nient'altro di fare solo cose con le mani va bene ora vedremo un po' di fumetti cosa ho comprato ieri da belville comics più nello specifico dunque 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 allora ho finalmente recuperato un fumetto un fumetto un fumetto che vi ho fatto vedere insomma di cui vi ho annunciato la pubblicazione in italia qualche tempo fa si chiama to gain di bozzetto e panaccione che bellezza l'ho sfogliato in fumetteria cento volte quando ancora lavoravo da belville comics ma non l'ho mai comprato finalmente me lo leggerò dovrebbe parlare di un piccolo batterio di un piccolo esserino all'interno credo di una provetta che credo di essere tarzan questa è l'idea che mi sono fatto poi magari sbaglio perché ragazzi non l'ho ancora letto quindi però che bello che che bellezza che bellezza ogni tavola che ho visto in questi mesi continuando a sfogliarlo ogni tavola mia mi ha sempre convinto troppo comodi questi trapezzi adesso che noi sistemati un po' dappertutto nella giungla va bene sembra davvero fantastico sembra una cosa bella delirante troppo contento quando esce un fumetto italiano che mi incuriosisce perché praticamente non mi frega mai un cazzo di quello che esce in italia e quindi ogni tanto ogni tanto un po di gioia e davvero davvero curiosissimo sia per bozzetto che per panaccione e di entrambi non ho letto una sega dopodiché ragazzi ieri io da belville ho passato praticamente 20 minuti a fissare la sezione dynit showcase volevo prendere tutto e alla fine ho preso paradossalmente il volume che meno mi incuriosiva o diciamo il volume che meno a livello grafico risuonava aveva risonanza con i miei gusti perché stiamo parlando di muyoco anno autrice che ha un tratto sicuramente riconoscibile e appunto non vicinissima ai miei gusti sicuramente attira di più le lettrici faccio un po mi affido un po degli stereotipi di genere sì però insomma con questa collana voglio sempre un po sfidare i miei gusti leggere cose molto diverse da quelle che leggere di solito sembra davvero figo dovrebbe parlare di delle si può parlare di cortigiane non so se il termine giusto insomma sì cortigiane cortigiane dell'antico giappone che appunto credo si accompagnino a uomini e immagino non mancheranno anche i rapporti sessuali muyoco anno io appunto la conosco di nome non ho mai letto nulla di suo mi dispiace conoscerla solo per per il fatto che si tratta della compagna di idea che hanno ma insomma questa è l'occasione giusta insomma per scoprirla copertina fantastica cioè colori colori a gogo bellissimo bellissimo questo contrasto tra bo questo magenta fortissimo questo verde questo arancione bello copertino incredibile io piano piano recupererò tutti i volumi della collana showcase concludiamo ieri in realtà ho comprato anche un po di giochi del nintendo 3ds ma magari ci dedico un altro video questo lo teniamo solo per i manga per i fumetti anzi concludiamo con un acquisto che ho fatto su vinted non ho fatto l'unboxing perché perché bo non c'avevo voglia ho comprato tomi di giungito finalmente penso l'opera più famosa di ito finalmente l'ho fatta mio ragazzi l'ho pagato 5 euro con spedizione gratuita grazie mille salvatore per avermi dato questa dritta lo volevo leggere da tanto dovete sapere che nel nuovo negozio dove lavoro è pieno di gadget e ce ne sono tanti legati a tomi quindi ogni giorno vedo questi cazzo di poster di tomi portachiavi maglietta addirittura e mi ripeto che voglio proprio leggerla volevo proprio leggerlo questo manga in più mio collega di cui mi fido molto me ne ha parlato benissimo sembra un ito molto più vecchio ragazzi cioè sembra un ito più più acerbo ma in realtà comunque già che già ha raggiunto una maturazione artistica pazzesca però mi sembra un un ito degli inizi cioè mi piace un sacco sembra davvero bello bello e poi c'è ragazzi io non ricordavo fosse così grosso stiamo parlando di 700 pagine di fumetto incredibile vabbè è un cult non c'è nient'altro a dire penso sia il manga più famoso di ito sono curiosissimo di leggerlo domino donna capace di sedurre e corrompere la mente degli uomini trascinandoli in una spirale di follia domino non teme la morte poiché nulla può ucciderla questa è la premessa pazzesca di questo bel mangozzo come vi dicevo in uno dei miei vecchi video soici mi è piaciuto veramente tantissimo ho fatto l'errore di dare per scontato giungito semplicemente perché è super famose super mainstream però in realtà c'è da dire che si tratta davvero di un autore capace di un ragazzi non riesco a non riesco a non far vedere il contorno vabbè ok tanto questi video non li montano l'italia non mi frega un cazzo quindi tomi sakuran di mo yoko anno e tugain di bozzetto e panaccione questi sono stati i miei acquisti di ieri questo è il primo episodio di private bartha o qualcosa del genere lo chiameremo il prive di bartha non lo so qualcosa di stupido idiota ma tanto lo vedrete solo voi che siete nel canale telegram quindi buona serata un bacino a tutti